Marco Mariotti, allenatore della Norese, è un 3-0 indiscutibile. Avete fatto la partita, avete segnato, avete rischiato pochissimo. Sì, ma adesso si dirà che abbiamo giocato contro l'ultimo in classifica, però vi ricordo che questi hanno perso 2-1 Arzaghena, hanno perso 2-1 Alba Lunga. Ci ho sempre da dire qualcosa, io tante volte leggo perché a me piace leggere e osservare, è perché non gioca quello. Abbiamo perso Albano, ci hanno fatto i primi 20-1, è perché non gioca quello, è perché non gioca quell'altro. Si vedono sempre le cose che non vanno. Noi siamo una squadra che dobbiamo fare solo meglio dell'anno scorso, sembra che siamo in Real Madrid. Questo è un salsolino che mi devo levare dai scarpe perché io leggo tutto, cerco di capire, cerco di essere sempre generoso con tutti. Però ci sono delle cose che mi hanno dato fastidio in settimana con Letta e me rengo per me. Stando alla partita, insomma, avete segnato, avete raddoppiato? Una partita senza storia, una partita in cui i ragazzi sono stati di una bravura, di un'intelligenza unica. Ti rivedo, questa squadra ha perso 2-1 Albano, ha perso 2-1 Arzaghena. Cioè non è che... invece loro nel primo tempo non sono stati in campo con intelligenza, la squadra è stata messa, penso, ben in un campo. L'hanno fatto e loro non hanno mai rischiato niente. Vi faccio solo un plauso, perché non è mai facile giocare. Si guarda avanti, i prossimi impegni è Budoni e Torres. Ma noi guardiamo sempre avanti, noi andremo a Budoni per fare la partita nostra e cercare di portare via i tre punti. Poi vedremo quello che dirà il campo, poi verrà la Torres, il quale noi faremo la partita nostra cercando di fare una buona prestazione, di giocare a calcio e cercare di portare via i punti.